Non credo di aver visto bene, ha fatto una doppia wheel mill Il secondo Dun Contest in cui partecipa Michael Jordan, siamo nel 1987 Rivediamo in questo Dun Contest il nostro amico Terence Ma senti, ma questo quante volte partecipa? Inizia subito un volto poco noto, un certo MGA Una credola a due mani Ma dove l'ha presa questui? Allora, guarda, a me è piaciuto molto Sai che ne è piaciuto? 8, raga, basta sti, 360, pie Tansbury, bella, a me piacciono queste tante No, no, queste nemmeno le posso vedere Free throw line Questa l'abbiamo già vista Non credo di aver visto bene, ha fatto una doppia wheel mill Questa è quella iconica, forse, che fa il troppo Gold è sminito, come sempre, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate